Gentili telespettatori, buona giornata. E così Fratelli d'Italia giustamente dice ma la sinistra di Fratoianni, che ha ricevuto anche i soldi da Soros, paghi gli affitti per le sezioni di Roma di sinistra italiana. E così arriva in aula, arrivano in aula gli affitti non pagati da sinistra italiana. Il deputato Antonio Baldelli infatti presenta un'interrogazione sui mancati pagamenti o chiamiamole morosità che ammontano a una cifra esorbitante 420.000 euro che il partito ha nei confronti dell'Ater, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica che fa capo alla Regione Lazio. Secondo quanto riporta il giornale Il Tempo, per la sede di Via Zabaglia, scrive Edoardo Sirignano, quella di Testaccio il credito ammonterebbe a circa 102.000 euro. E così il partito dei Fratelli d'Italia chiede un chiarimento rispetto ai soggetti coinvolti. Era il 24 aprile, dice, quando chiedevano a chi di dovere di far luce sui finanziamenti erogati dal banchiere ungherese Soros naturalizzato statunitense, tra cui spiccava quello dato al segretario di AVS, che avrebbe ricevuto oltre 110.000 euro, motivo per cui sorge un interrogativo legittimo. Perché questi fondi non sono stati utilizzati per risarcire gli enti e i proprietari morosi? Per cosa sono stati utilizzati questi soldi? È la domanda che si fa. Così, da un'indagine di Open era venuto fuori un saldo di 70.000 euro per un immobile occupato. A questo punto, dice Baldelli, Fratoianni e la Salis potranno intonare un nuovo slogan, chi gli calza a pennello abusivi di tutta Italia, unitevi. Ecco, il partito di Fratoianni avrebbe delle insolvenze, ci sono anche multe non pagate che riguarderebbero affissioni abusive di manifesti di propaganda politica. Per dirle in breve si invadono muri e spazi destinati ad altri e poi non si paga nemmeno l'affitto. Il saldo nei confronti della prefettura, quindi se fosse Antani prefettura, è di oltre 28.000 euro. Parlano di euro come se fossero noccioline. E così arriva un'interrogazione al Ministro dell'Interno e un'interrogazione al Ministro dell'Economia, Giorgetti. Vorrei spiegare se i titolari dei rispettivi di Casteri siano a conoscenza, vorrei sapere, se sono a conoscenza sono stati avviati gli accertamenti dei fatti presunti rispetto alle spettanze vantate da IMS e da un'altra serie di enti che appartengono allo Stato. Vorremmo capire come vengano recuperati questi soldi, se esiste un piano, se esiste una mediazione. Al momento purtroppo non si sa nulla. Rispetto a tali iniziative sarebbero stati coinvolti anche altri esponenti di forze politiche di maggioranza. Bisogna fare in modo che cose come queste non spossano e non debbano ripetersi e soprattutto che sia garantito il rispetto in materia di proprietà e debiti verso enti pubblici, anche da parte di partiti politici italiani e parlamentari. Sull'argomento Baldelli fra un confronto con le forze politiche. Rispetto a tali questioni dovrebbe esserci la massima collaborazione. Nessuno può tirarsi indietro per rispetto alle persone che fanno sacrifici. È necessario che si dica chiaramente che è sbagliato occupare gli immobili, così come è errato fare propaganda sull'onestà, sulla trasparenza pur avendo delle inadempienze. Se ci sono dei debiti è giusto attivarsi come quanto prima per colmarli. Salvini dice che questi debiti devono essere saldati, anche perché i bilanci dei partiti di sinistra sono quasi tutti in attivo. Però non ci sono solo i debiti con questa società, ma i debiti sono un po' su tutti. Ma poi soprattutto un debito con l'Inps di tutti quei soldi, sapendo che l'Inps in alcune regioni, come vi raccontavo all'inizio, l'Inps rivela appunto il problema che vi dicevo all'inizio del video. A questo punto pagate. Se il bilancio che avete è inattivo, perché continuate a mettere nel passivo queste voci qua? Vanno pagate. Vanno pagate perché gli immobili dove non si paga l'affitto all'Inps, l'Inps ha bisogno di questi soldi per pagare gli affitti. Quindi che un partito non paghi l'affitto è qualcosa di veramente eclatante e incredibile. Veramente davvero incredibile. secondo, come vi dicevo, il tempo ci sono effettivamente queste inadempienze sull'affitto. Si farà un'interrogazione parlamentare, ma evidentemente non ne uscirà nulla. Fra dieci giorni non se ne parlerà neanche più di Fratoianni e degli altri. Mentre di Giorgia Meloni che è il capo del governo, con questa cosa che è scesa dalla portiera della macchina pensando che fosse tutto preparato ad hoc, si è poi sbagliata. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video come questi, che poi possono essere condivisi su Facebook, su LinkedIn e poi anche sugli altri, che sono appunto la pagina di Facebook, Teleitalia e poi c'è LinkedIn e Triads. Grazie a tutti e arrivederci a presto.